Che le fotocamere facciano anche dei video ormai è cosa abbastanza scontata, ma con l'arrivo e l'affermazione delle mirrorless questo concetto è stato sempre di più esasperato fino a realizzare dei corpi ibridi che sono quasi più videocamere che fotocamere. In casa Fujifilm secondo me si è raggiunto un equilibrio quasi perfetto con la X-T4, un corpo che aveva stabilizzazione, aveva una batteria di ottima durata, aveva lo schermo ribaltabile, insomma tante caratteristiche che sono effettivamente riuscite a colpire un vastissimo pubblico andando a migliorare sia la resa diciamo complessiva della X-T3 ma anche quella della X-H1 che per tanti aspetti aveva un po' deluso. Ad esempio proprio il discorso della batteria, il fatto che non avesse lo schermo ribaltabile per chi faceva video. Ora però nel 2022 Fujifilm ha introdotto due X-H, la X-H2 con 40 megapixel che è un record per la categoria PSC e la X-H2S con il primo sensore stacked dell'azienda che ovviamente mira di più alla velocità. Quindi con queste due fotocamere a listino ormai la X-T5, la nuova fotocamera di questa linea, non aveva senso che andasse ancora a cercare di bilanciare e accontentare un po' tutti, no? Perché si è andati a creare una linea più vasta e più completa. Per cui Fujifilm ha scelto di creare un prodotto più destinato alla fotografia, ripristinando se vogliamo alcuni valori che erano presenti più nella X-T3 e andando anche ad escludere, a permettersi se vogliamo di escludere qualcosa, cercando di realizzare un prodotto un pochino più specifico. Una cosa che non vediamo da diverso tempo ma che dal mio punto di vista non è assolutamente sbagliata. Ad esempio è un po' più compatta, ritornando quasi sulle dimensioni della X-T1, ma è persino più comoda da impugnare rispetto alla X-T4 perché Fujifilm ha lavorato per la prima volta, secondo me, su questa serie davvero bene sull'impugnatura, realizzandola in maniera davvero ergonomica e offrendo la possibilità anche a chi ha mani abbastanza grandi di poggiare il mignolo, quindi sicuramente un vantaggio da questo punto di vista. Ma l'assenza che vediamo qui alla base dei pin ci segnala anche una mancanza, quindi la possibilità, anzi l'impossibilità in questo caso, di collegare un battery grip. Ora, il perché, diciamo, di questo passo indietro sta proprio nella nuova definizione delle linee perché, come vi dicevo, la X-H2S ormai è quella destinata alla fotografia d'azione dove di solito si va più spesso ad impiegare un battery grip. Ora, questo non significa che non sia ovviamente una carenza, dispiace che non ci sia questa possibilità rispetto alla X-T4 dove invece era presente, ma serve ovviamente a caratterizzare meglio non solo questo prodotto ma l'intera line-up. Infatti qui parliamo di un ritorno, se vogliamo, alla fotografia con anche un display che perde l'articolazione completa qui di lato con la possibilità di ribaltarsi e invece offre quella che è sicuramente più comoda per la fotografia, quindi con la possibilità di inclinazione verso l'alto e verso il basso, ma con l'aggiunta anche con uno switch laterale dell'inclinazione laterale che serve ovviamente per gli scatti in verticale. Di lato, con questo sportellino che tra l'altro inizia a starmi un po' antipatico perché serve l'unghia per aprirlo, direi che è arrivato il momento di migliorarlo con qualcosa di un po' più comodo, insomma, altrettanto sicuro, ma più pratico da aprire, insomma, ogni volta mi faccio anche male andando a cercare di aprirlo, però in questo caso abbiamo due SD o HS2, un vantaggio rispetto alle serie inferiori di Fujifilm, uno svantaggio rispetto alle serie superiori con la CF Express. Svantaggio, come dicevo, dal punto di vista della velocità, ma ovviamente questa è una soluzione in realtà più pratica nel caso in cui non si debba andare appunto a realizzare video di altissima qualità, non che questi non li faccio, ma non arriva ad esempio all'8K come la X-H2, o raffiche velocissime come la X-H2S, quindi ancora di più qualcosa che va a creare una separazione tra le linee. E poi qui il buffer è un po' un limite, perché ci dà la possibilità di scattare in RAW circa 19 foto prima di rallentare, abbastanza evidentemente. Continuando sugli aspetti un po' diciamo dubbi dal mio punto di vista, non andando insomma a ribadire quelli che sono i controlli, perché sono veramente tipici per questa fotocamera, c'è lo switch, anzi la rotella sotto quella per la scelta della sensibilità, che inizio a non trovare molto pratica, perché è vero che ci dà la possibilità di selezionare al volo senza entrare nei menu, lo scatto singolo, lo scatto raffica lenta, raffica veloce, bracketing e via discorrendo, però è incompleto. Ad esempio il Pixel Shift, che ci consente di riscattare delle fotografie da poi diciamo mischiare, mixare al computer con l'applicazione specifica di Fujifilm, arrivando a dei DNG da 160 megapixel, deve essere attivata nel menu. Vorrei aggiungere un paio di considerazioni sull'applicazione Fujifilm Pixel Shift Combiner disponibile per macOS e PC, in quanto è particolarmente schizzinosa. Diciamo che la camera nel momento in cui attivate la funzionalità già vi avvisa che serve un treppiedi, ma se fate gli scatti solo con il treppiedi, senza altri accorgimenti, spesso non possono essere poi combinati in maniera efficace, vi genera un alert e l'immagine finale avrà 160 megapixel, ma vista molto da vicino presenterà una forte scalettatura. Quindi io ho notato che per ottenere al sicuro delle fotografie che poi vengono combinate con successo, bisogna sicuramente iniziare da un treppiedi. Poi è utile avere un intervallo attivo tra i vari scatti, di un secondo di solito già basta, due è meglio, disattivare la stabilizzazione qualora fosse ancora attiva, e mettere anche l'autoscatto di un paio di secondi, va benissimo perché in questo modo la camera riesce ad essere un po' più stabile tra le varie catture e poi il mix avviene con efficacia e si noterà il vantaggio dei 160 megapixel. Comodo lo switch fisico, fotografia e video, molto molto pratico, ma un altro aspetto che inizia un pochino a dar fastidio onestamente è questo joystick piccolino, ottimo quando è stato introdotto, adesso però sono diversi modelli che lo hanno, e quello migliorato dal punto di vista del grip della serie X-H2 è sicuramente qualcosa che si poteva sperare arrivasse anche su X-T, invece abbiamo ancora questo piccolino, per carità svolge il suo scopo adeguatamente, ma è sempre un po' scomodo sotto le dita. Poi abbiamo una batteria che è la medesima ormai da diverso tempo, che ci consente di catturare fino a 700 scatti secondo lo standard CIPA nella modalità economica, circa 600 in quella normale che non spegne display eccetera eccetera, il mirino è sempre un OLED da 3,6 milioni di punti con 100 Hz di frequenza, quindi inferiore a quelli della X-H2 che hanno 5,7 se non erro milioni di punti, quindi rimane un po' indietro anche sul fronte dell'aggiornamento, perché in quel caso parliamo di 120 Hz, ma rimane un mirino abbastanza valido, soprattutto perché si è passati da un ingrandimento dello 0,75x a 0,8x, in qualcosa che onestamente si apprezza. Rimane però una caratteristica diciamo sicuramente migliorabile, che rappresenta uno spartiacque proprio tra le linee. Per quanto riguarda le connessioni, sulla sinistra vediamo che si è ritornati agli sportellini rigidi, che personalmente preferisco, che c'erano nella X-T3, non quelli gommosi che poi avevano l'attacco di lato e stavano sempre penzoloni, non si sapeva dove andavano a cadere, con un ingresso audio da 3,5 mm, con l'uscita audio sempre assente, che però si può ottenere tramite la USB-C e un adattatore, con il controller remoto da 2,5 mm e con la porta micro HDMI. Lato video rispetto alla X-T2 abbiamo ovviamente delle limitazioni, in parte per il buffer, in parte per l'assenza della CFexpress, in parte per lo schermo non completamente ribaltabile, che può essere un problema per chi è un vlogger, quindi deve essere davanti all'obiettivo e non sul retro della camera, perché poi se la stai impugnando in realtà forse è meglio avere lo schermo in questo modo in linea con l'obiettivo e senza la necessità di doverlo aprire e magari andare a bloccare dei cavi o creare dei problemi con le gabbie. Però, dicevo, le limitazioni si vedono a partire dal fatto che qui manchi l'8K, si arriva a un 6,2K con oversampling per carità, ma con un crop di 1,23 per un 6K che ovviamente si ferma al 25,30 fotogrammi al secondo. Sul 4K DCI arriviamo anche al 50,60 fotogrammi al secondo, ma in line skipping, in questo caso però non c'è crop. Lavorando invece a 25,30 fotogrammi al secondo sul 4K Ultra HD, in sostanza abbiamo entrambe le opzioni, quindi line skipping senza crop, oppure l'oversampling con il crop da 1,23 per. Considerate che abbiamo sempre il 4.2.2 a 10 bit, abbiamo l'introduzione adesso della nuova modalità di registrazione FLOG 2, che è piuttosto interessante, quindi sicuramente ci sono dei vantaggi, tra cui la connessione in uscita micro HDMI, che ci dà la possibilità di registrare in 12 bit ProRes RAW, sia con l'Atomos Ninja oppure con il Blackmagic display dell'azienda in Blackmagic RAW. Quindi sicuramente dei vantaggi, non è una camera che non va bene per il video rispetto alla X-T4, ovviamente ci sono dei passi avanti, ma ormai abbiamo la X-H2 che è più specifica per quel tipo di impiego. Per quanto riguarda la messa a fuoco, abbiamo sostanzialmente le stesse caratteristiche di X-H2, e quindi l'introduzione del rilevamento per animali, uccelli, automobili, moto e bici, areoplani e treni. Questa voce di menu però si trova separata rispetto al riconoscimento volto e occhi, cosa che onestamente non ho ben capito e apprezzato, perché comunque le due cose sono alternative, cioè attivando l'una si risattiva l'altra, per cui sarebbe stato molto più logico averle nella stessa pagina, anche se ovviamente non è un grosso problema, ma rende un po' bizzarro comunque il comportamento dal punto di vista del setup. Abbiamo ovviamente l'introduzione del deep learning, una caratteristica molto importante per andare a far funzionare queste nuove opzioni, e poi generalmente anche un miglioramento della messa a fuoco dovuto al fatto che aumentano nettamente i punti per il rilevamento di fase sul sensore, arrivando a 3,3 milioni. Come per X-H2 però, devo dire di aver notato un miglioramento solo marginale rispetto ad X-T4. Sicuramente nei passaggi di fuoco c'è una maggiore precisione, quindi per esempio dal primo piano allo sfondo la X-T4 ogni tanto aveva un po' di incertezza, che qui non ho notato, però ad esempio nell'inseguimento ho notato che funziona bene solo se si è in condizioni ottimali, sia di illuminazione ma anche proprio di visione del soggetto. Ad esempio ho fatto delle prove con mio figlio che veniva incontro a me con la testa un po' bassa e ha sbagliato moltissime fotografie. Potrebbe anche migliorare grazie all'introduzione di nuovi firmware, ma sicuramente si nota sia nel settore video che in quello fotografico. Ad esempio per quanto riguarda il video mi è capitato di fare un piccolo test al chiuso con una ceramista all'opera e non sono riuscito ad impostarlo in maniera corretta affinché mettesse a fuoco bene più che altro i soggetti che stavano nella zona centrale. Cioè quando lui vedeva una mano che spuntava anche in un angolino comunque tendeva a dare priorità a quello. Sicuramente si può gestire la cosa, si può ottimizzare, vi riscorrendo, però di base non ha un approccio particolarmente smart per quella che è stata la mia sensazione durante l'uso. Se però parliamo di sensore, questo nuovo BSI da 40 megapixel mi ha stupito in positivo perché abbiamo ovviamente un aumento della risoluzione e quindi delle informazioni catturate ma che non incide troppo negativamente sul rapporto segnale-rumore. Intendo dire che se ad esempio andiamo a recuperare delle ombre sì c'è un po' più di rumore cromatico ma essendo più fine, più sottile data la risoluzione maggiore non è poi troppo complesso da gestire. Ecco forse i 12800 ISO di tetto massimo non sono comunque molto usabili perché oltre a ridursi la gamma dinamica c'è anche un po' di color casting. Continuo a considerare 6400 come limite in questo formato APS-C e proprio a quel limite comunque forse la X-T4 complessivamente era un po' meglio. Però ecco se rimaniamo intorno ai 3200 ISO devo dire che ho visto pochissima differenza rispetto alla X-T4 e anzi forse lei è anche migliore nel recuperare informazioni dalle alte luci. Quindi un sensore che complessivamente devo dire ho trovato abbastanza valido così come in generale questa fotocamera e ripetisco il termine fotocamera mi è piaciuta. Ed è soprattutto interessante nella nuova line-up che ha creato Fujifilm dove abbiamo questa X-H2S chiaramente più indicata per i fotografi d'azione ma anche come dicevo per la moda per avifaunistica e via riscorrendo. Abbiamo la X-H2 che è il prodotto simile se vogliamo di partenza a questo perché come dicevo condividono il sensore e il processore ma va ad essere più completo ha anche una maggiore capacità di dissipazione sicuramente come camera ibrida con prevalenza anche per il video quella è migliore anche lo schermo che si ribalta e via riscorrendo. Qui abbiamo un prodotto più destinato al fotografo ma diciamo un certo tipo di fotografo quindi escludendo quelli che sono interessati principalmente alla fotografia d'azione qui rimangono comunque tanti altri settori che sono interessanti quindi fotografia di viaggio di paesaggio street, eventi, cerimonie per tutti quelli che hanno questo tipo di fotografia in mente devo dire che questo prodotto fa delle sue lacune come se vogliamo dei vantaggi cioè il fatto di essere riuscito così ad essere più compatto più leggero più pratico da utilizzare con anche un display che risulta complessivamente più utile al fotografo messo in questo modo che non completamente ribaltabile il prezzo rispetto all'XT4 è un po' salito parliamo di 2000 euro ma sappiamo che questo è un periodo che effettivamente ha visto il settore abbastanza in crisi ci sono aumenti di prezzo a tutto tondo e complessivamente ecco forse la vicinanza di circa 300 euro rispetto alla X-H2 può far pensare giusto chi ha più intenzione di andare sul lato video ha delle preferenze anche non so per i controlli che sono abbastanza diversi nella X-H2 però complessivamente per quel tipo di fotografia che vi ho detto questa macchina è secondo me più indicata il prezzo è abbastanza alto per carità ma è sicuramente in linea con le qualità complessive del prodotto bene spero che questo video sia stato di vostro interesse fatemi sapere come sempre come la pensate nei commenti e ricordate che abbiamo un canale dedicato ai professionisti su Telegram che è Sagge Offerte Pro che si può anche raggiungere con l'indirizzo pro.saggeofferte.it dimenticavo questo dovrebbe essere l'ultimo video prima di Natale per cui ne approfitto per farvi tanti auguri non so se poi ce ne sarà un altro prima di Capodanno ma in tal caso se non dovesse esserci ci rivediamo nel 2023 state bene buone feste e alla prossima ciao